Un'amministrazione comunale che ha deciso tagli indiscriminati, colpendo unicamente le fasce più deboli, non attuando alcun piano di riorganizzazione della macchina comunale, il tutto con un potere di spesa per i dipendenti comunali di circa 10.000 euro in meno rispetto agli anni passati. E' quanto denuncia la CISL, Funzione Pubblica Pozzuoli. Il sindacato, inoltre, deve combattere le sue battaglie da solo, avendo chiesto la separazione dei tavoli rispetto a CISL e Will. Per noi l'unità sindacale è un valore in sé, un valore assoluto che va difeso e va comunque perseguito ad ogni costo. Quindi noi cercheremo e tenderemo di ricomporre questa lacerazione che si è creata, ma è una lacerazione dove anche la parte pubblica e la parte politica ci hanno messo dell'oro. I dipendenti comunali appaiono come il fanalino di coda a livello europeo, danneggiati dalle ultime due finanziarie che hanno attuato tagli agli enti locali pari al 53%, come spiega Salvatore Tinto, coordinatore provinciale enti locali della CGL. Noi chiediamo di non seguitare questa politica discriminatoria e assolutamente ingiustificata e vergognosa, ma di non fare tagli lineari e tagli orizzontali, ma se proprio tagli ci debbano essere, devono essere tagli mirati, ad eliminare sperperi, a eliminare sprechi, a eliminare spese che negli anni sono contraddistinti sempre come spese dissennate, a volte sciagurate, che non hanno tenuto conto degli interessi generali, dei bisogni, delle aspettative della collettività puteolana. Tra le tante voci che rischiano di sparire c'è quella dei ticket mensa per i lavoratori di Via Tito Livio. Il prossimo 31 ottobre potrebbe essere l'ultimo giorno in cui i tagliandi saranno distribuiti ai comunali. Una situazione al collasso, dunque secondo la CGL. Oggi si è tenuto un incontro con l'amministrazione comunale alle 14. Quattro ore prima sono stati invece Cisle e Willa di incontrare i rappresentanti del comune, ai quali hanno chiesto che venisse loro prospettata nel dettaglio la manovra che prevede i tagli, per poi discuterne meglio in un prossimo incontro previsto per martedì. Il tavolo separato che ha spaccato il fronte sindacale locale rappresenta poi un'altra nota dolente, che di fatto indebolisce l'intera categoria dei rappresentanti dei lavoratori.